ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora come promesso il video di oggi tratterà sul ritorno del narcisista perché il narcisista purtroppo torna perché torna bella domanda praticamente il narcisista può tornare per diversi motivi in realtà non ce n'è uno solo come avete visto nel video precedente narcisista già fa tre mosse diciamo prima vi riempie di attenzione di regali poi vi comincia ad umiliare e infine vi scarta quando non le andate bene più però in realtà narcisista quando vi scarte perché ha già ad occhiato un'altra preda con la quale farà lo stesso identico gioco quindi comincerà a riempirla di regali poi comincerà a svalutarla e poi a rivederci grazie tuttavia il narcisista facendo così con un sacco di persone un sacco di prede prima o poi dovrà tornare diciamo a ripetere il solito ciclo quindi se ad esempio il narcisista facciamo un esempio ha provato che ne so con una ha fatto queste tre mosse se n'è andato poi però con un'altra con altra con altra con altra ha esaurito le sue prede e quindi automaticamente torna ma non torna solo da una torna in realtà a tutte cioè torna da tutte o da tutti perché purtroppo il narcisista è così anzi tiro di più stavolta 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 il narcisista il tempo diciamo per per chiudere questa relazione sarà molto più breve della prima volta quindi vi faccio un esempio se per esempio la prima volta il vostro narcisista dopo un anno ha iniziato a svalutarvi stavolta impiegherà la metà del tempo quindi dopo sei mesi comincerà a svalutarvi per intenderci se dopo se alla prima volta il primo il vostro narcisista ha deciso di chiudere la relazione da quando ho iniziato chiaramente a svalutarvi dopo dopo sei mesi quindi se siete stati insieme a questo narcisista per un anno e mezzo dopodiché impiegherà soltanto tre mesi per chiuderla perché ormai questo narcisista è come se si fosse abituato a voi in un certo senso non so se mi sono spiegata chiaramente narcisista si aspetta perché come sapete il narcisista c'è un io proprio estremo c'è una persona classica persona io sono tutto io quello io quell'altro ma invece valgono meno di zero e quindi avendo un io così elevato narcisista si aspetta che voi state ancora pensando a lui quindi torna anche per valutare questa cosa se pensate a lui o se nel frattempo siete andate oltre quindi in realtà il narcisista torna anche per rifare diciamo lo stesso gioco che ha fatto la prima volta come ho già spiegato quindi adulazione svalutazione scarto facendovi soffrire doppiamente quindi se siete entrate già in contatto con un narcisista che si è comportato così mi raccomando la seconda volta se lui dovesse tornare chiudete lì la porta in faccia perché vi farà soffrire soltanto il doppio e quindi ragazzi questo video per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video però prima mi raccomando mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale a presto